ciao a tutti benvenuti sul mio canale le anticipazioni che andremo a scoprire oggi di terra amara riguardano un evento in particolare che vede protagonisti demir e zulela ma attenzione come al solito si tratta di uno spoiler per cui se non desiderate sapere fatti importanti prima che la trama della serie venga trasmessa in tv non guardate questo video se invece siete persone curiose e amante degli spoiler siete nel canale giusto ma dove eravamo rimasti zulela va via da cucurova dopo aver saputo del tradimento di demir lo trovate spiegato bene nel nostro video precedente la giovane non è riuscita a rimanere nella villa accanto a suo marito il dolore l'ha portata a fuggire dalla realtà insieme ai suoi due bambini qualcosa però durante il viaggio l'ha fatta cambiare idea e zulela ritorna sui suoi passi la giovane decide di fidarsi di demir e di perdonarlo così torna nella città zulela affronta demir discutendo su quanto è accaduto e incolpandolo di averla tradita con umid il rapporto matrimoniale tra demir e zulela sembra essere sulla strada del traguardo finale ma demir venuto a sapere che è stata la stessa umid a dire a sua moglie di aspettare un figlio dallo yaman decide di affrontare con fermezza la nuova dottoressa per toglierle la vita prima lei e in un secondo momento a lui stesso zulela però riesce ad impedire tutto questo per fortuna è ritornata cucurova altrimenti per umid sarebbe stata la fine e anche per demir la quale vita sarebbe messa a repentaglio per sempre successivamente zulela e demir continuano a discutere e lui le confessa che senza di lei la sua vita non conta nulla zulela però stenta a crederci e demir le ribadisce che nel suo cuore c'è solo lei e nessun'altra e che farebbe di tutto pur di non vederla soffrire e piangere come in quel momento poi continua e le svela che umid è una donna della quale non ci si può fidare per cui ciò che le ha raccontato lo ha fatto solo per farla stare male zulela però continua facendogli notare di come questo evento abbia danneggiato la loro relazione ma di fronte a queste parole demir si mostra addolorato e capace di farsi del male zulela vedendo suo marito in quello stato e pronto a tutto decide di perdonarlo e di credergli alle sue parole zulela ha imparato ad amare demir e ora non vuole perderlo così i due si abbracciano per mettere fine a questo colpo che hanno preso e continuano così la loro vita insieme anche questo video breve è giunto alla fine lasciate un like e commentate fateci sapere cosa ne pensate noi saremo lieti di leggere il vostro pensiero non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita e non solo un saluto e a presto